Il Centro Studi Agricoli ha diffuso una nota sulla nuova emergenza provocata dall'invasione di cavallette nel centro dell'isola. Devo riconoscere, ha detto Torepiana, presidente del Centro Studi Agricoli, che l'Agenzia regionale Laore e l'Università di Sassari, impegnati nella mappatura dei nidi delle cavallette, stanno svolgendo un eccellente lavoro. A mancare, ha detto Torepiana, è stata la Regione, con i due assessorati competenti, quello della tutela dell'ambiente e quello dell'agricoltura. Il primo, per non essere intervenuto tempestivamente con azioni di disinfestazioni alle prime schiuse delle uova e quello dell'agricoltura, per i forti ritardi e per l'assenza, ad oggi, degli accrediti dei ristori agli agricoltori e agli allevatori. Non ci spieghiamo e non capiamo le motivazioni di questi ritardi da parte dei due assessorati, dopo quattro anni dalla comparsa delle prime cavallette, segnalata puntualmente alle autorità regionali. Chiediamo ai sindaci, i cui territori sono interessati dall'infestazione delle cavallette, ha aggiunto ancora Torepiana, di richiedere lo stato di calamità da inoltrare alla Regione. Con questa decisione si potranno attivare misure di disinfestazioni e di ristori, senza alcuni vincoli previsti dalle leggi che, in una situazione normale, devono essere rispettati. Chiediamo, infine, una deroga a tutte quelle aziende che oggi producono in biologico, per permettere l'utilizzo di insetticidi contro le cavallette e l'utilizzo di foraggi e alimenti non biologici per l'assenza di reperibilità sul mercato.